Siamo con Gerardo Borriello, presidente dell'associazione fondiare a Oasi Vesuvio. Ecco Gerardo, abbiamo visto delle immagini bellissime di Torre del Greco, dall'alto, dal punto in cui fa base la vostra associazione. Questa bellezza si può vedere ancora meglio? Sì, infatti, voglio dire, tutto parte proprio da quello, cioè tutto è partito da quella visione. Cioè vedere la nostra Torre del Greco, voglio dire, in toto, voglio dire, nella sua totalità, nella sua complessità di siti, nella sua bellezza e meraviglia, come dice il maestro narratore, voglio dire, che meraviglia. Che meraviglia come l'espressione che sento dalle persone quando vengono su al sentiero, voglio dire, e tutti quanti dicono che meraviglia. Noi vogliamo che questa che meraviglia diventa la meraviglia di Torre del Greco, voglio dire, per tutto quello che ci sta da ammirare in tutti i siti di Torre del Greco. Ecco, non a caso dal mare alla montagna è un percorso ideologicamente in mezzo, c'è tanto. Esattamente. È tutto questo che sarà poi presentato alla Borsa del Turismo. Cosa ci aspettiamo? Dove vuole arrivare questo percorso? Io penso che il nostro obiettivo è quello che se tutti quanti che ovviamente già vivono questi siti di Torre del Greco riusciamo ad essere uniti e in rete, voglio dire, e far sì che il turista quando viene a Torre del Greco possa veramente vivere un'emozione come l'abbiamo vissuto a noi oggi vedendo questo video, il nostro obiettivo è questo, quello di far vivere un'emozione totale di Torre del Greco.